Auguro ai giovani, ai bambini, agli adolescenti che sono chiamati a fare ciclismo, anche soltanto di tipo inizio poi smetteranno, che questo benedetto velodromo non venga toccato e venga mantenuto. Questo l'auspicio di Bruno Gonzato, campione di ciclismo, scledense di nascita ma bassanese d'adozione, che lancia un appello per salvare il velodromo del mercante. Lui, che ai mondiali di Amsterdam del 67 in questa gara, trionfò nella prova di velocità in tandem con il compagno Verzini, portandosi a casa la medaglia più prestigiosa. Di demolizione non vuole sentir parlare, la storia, e il velodromo cittadino è storia, non si tocca. Salviamo il velodromo del mercante. Salviamo il velodromo del mercante, ha avuto i mondiali nell'85. Gonzato chiede di costruire lo stadio da un'altra parte. Auguro che ci siano le possibilità anche economiche per poter non intervenire nella distruzione, tra virgolette, della demolizione della pista e che lo stadio di calcio, sempre per altri giovani e per altro sport, venga costruito sempre a Bassano ma in altro luogo. Grazie. Grazie.